Cabal, vi chiedo di presentarvi con nome e testata, grazie. Buonasera Marco Venditti, signore Mia Calciogno, tento della tua prestazione del risultato che è arrivato in un momento un pochino particolare della partita, insomma tuttosommato una serata positiva questa della Juventus per te, grazie. Ciao a tutti, sì, sono molto felice come ho detto prima nella prima entrevista, sono molto felice di essere qui e di portare tutto il mio lavoro, tutta la mia fiducia al mio compagno come loro a me e lo hai dato tutto oggi, come sempre in quella partita, chi giochi cinque minuti, un minuto, sempre do il massimo di me. Buonasera Luca Cavallero, Football Magazine, Volevo chiederti, siete la squadra che avete subito meno gol in campionato fin qui, qual è il segreto della vostra solidità difensiva? Grazie. Penso tutti siamo sulla stessa strada che lavorare forte tutti in campo, come il delantero, come l'attaccante, il mediocampista, tutti devono correre indietro per difendere dopo si pensa nell'offensivo, prima difendere dopo l'offensivo, così penso che lavoriamo tutta la settimana su non soffrire su un gol, perché se soffriamo un gol dobbiamo pensare prima a fare il gol del Parigi dopo il secondo gol, lavoriamo prima difendere dopo l'offensivo, quello è importante per il mister, per la Juve. Ciao Juan, Marco Paridonna, Juventus News 24, ti chiedo se ci racconti un po' il periodo che hai vissuto, su cosa hai lavorato magari anche nell'allenamento con Tiago Motta, se ci fai un po' una ricostruzione anche a livello tecnico, mentale, un po' come è stato l'ultimo periodo per te. Grazie mille. Lavoravo troppo forte, l'ultima partita di me fu contro Roma, è difficile per un giocatore non giocare di tanto tempo, però siamo pronti per giocare anche cinque minuti, come te l'ho detto, lui c'è la fiducia in me, anche la squadra c'è la fiducia, e lavoro tutta la settimana per essere pronto per giocare anche cinque minuti e un minuto. Buonasera Juan, Michele De Blasi, di Sogisportenotizie.it Vivete una notte da prima in classifica, secondo te questa squadra dove può arrivare? Penso è troppo temprano per parlare di che cosa, dove arriviamo. E' calcio e non sappiamo cosa può passare sul tempo, però noi l'importante è partita tra partita andare a vincere. Non ti posso dire no, andiamo fino al campionato e vogliamo essere campioni del torneo. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ti chiedo che Lazio avete affrontato e come mai così tante difficoltà ad andare a rete, pur con la Lazio in dieci. Grazie. E' calcio, non è colpa di noi che loro erano in dieci, è colpa del referente. Quello no, non è colpa di noi. Noi solo giochiamo il calcio, pensiamo in giù e non pensiamo in altro. Ciao Juan, Samueltafeste e Sportpaper. Io volevo chiederti, dopo l'inizio campionato, che sei partito titolare, sei sparito un po' dai radar. Volevo chiederti in che cosa sei migliorato, su che cosa hai lavorato, per far sì che oggi sei tornato e hai fatto una grandissima prestazione. Grazie. Come te l'ho detto prima, a lui è lavorato su tutto, perché sappiamo che cosa è la Juve, sappiamo la storia della Juve, che cosa dobbiamo fare per essere qui nella Juve e dobbiamo lasciare la vita sulla Juve, non solo in partita, sino in allenamento. Penso che il mister ha visto che è arrivato con un po' di fiducia, dopo ha avanzato un po', e per questo lui mi ha mandato fuori, però lui c'è la fiducia che io sono un giocatore importante per la squadra, non solo lui, sino la squadra, e lui ha aspettato il momento giusto per mettere dentro del campo. Non vedo altre domande? L'ultima e chiudiamo. Ciao, buonasera. Edoardo Benedetti, cittaceleste.it. Sappiamo che i rapporti tra Verona e Lazio sono ottimi, Zaccagni, Casale, Cancellieri, sono stati tanti giocatori che sono passati da una squadra all'altra. Quest'estate è vero che anche tu eri vicino a un certo punto a firmare per la Lazio e invece poi hai scelto la Juventus, oppure no? Sì, loro non l'hanno cercato prima, però la Juve è la Juve. Prima la Juve che tutti le altre squadre, loro sono una squadra grandissima, però penso solo la Juve. La Juve è la squadra che io volevo da piccoli e eccolo qua, sono qua. Grazie, buona serata. Ciao.